La controversa questione della Bolkestein è il decreto mille proroghe. Il 19 scadranno gli emendamenti e il governo per ora non ha ancora dato risposte. Solo in Abruzzo ci sono 700 piccole imprese che nel periodo estivo sono impegnate negli stabilimenti. L'industria turistica è importante che ha necessità di garanzie. Bisogna evitare di finire nelle mani delle multinazionali o di chi può avere interessi poco chiari. Questa mattina nella sede di Confcommercio a Pescara il presidente nazionale dei balneatori. Attualmente il settore è fermo. Anche questo deve essere oggetto di valutazione da parte del governo italiano e da parte della Commissione europea. Non è possibile che la spiaggia italiana sia bloccata perché non c'è ancora chiarezza normativa sul futuro di queste aziende. C'è chi sta programmando per i prossimi anni investimenti ma se non ci sarà chiarezza con il Consiglio di Stato che scrive le leggi si resterà a punto e a capo. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che l'applicazione della Bolkestan può avvenire solo dove la risorsa è scarsa. Per cui sarebbe contro il diritto europeo applicare sempre e comunque la Bolkestan. La sentenza della Corte di giustizia ha chiarito che la Bolkestan si applica solo dove la risorsa è scarsa. Se non si fa una mappatura, se non si fa un censimento della situazione attuale, qualsiasi applicazione automatica e generalizzata della Bolkestan è destinata ad essere travolta dai ricorsi e quindi dai giudici. Lecito chiedersi cosa è in programma la Sib. Noi abbiamo sollecitato il Presidente Meloni più volte, l'abbiamo fatto quando è andata per la prima volta davanti alla Commissione europea, il 3 di novembre scorso, abbiamo fatto anche dieci giorni fa. Stiamo sollecitando l'apertura di un tavolo di discussione con il Governo e con il Parlamento. Se il Governo non si muove è evidente che noi metteremo in campo tutte le iniziative di protesta per far valere un'esigenza che non è, ripeto, delle nostre aziende ma è un'esigenza dello Stato.